Come se mi rende felice? La mia famiglia, i miei nipoti, i miei fratelli, il mio cane e il mio ragazzo. E tutte le persone che mi sono vicine. Perché? Perché loro mi conoscono, sanno come sono fatta. Non hanno problemi se dico qualcosa in più o qualcosa in meno rispetto alle altre persone che mi possono vedere sotto altri punti di vista. E studiare. Ho imparato a capire meglio le persone, soprattutto i professori, che non hanno tutti, sei simpatica, quindi ti devi saper relazionare non solo con i compagni ma anche con persone più grandi di te. Ho scelto una scuola tanti anni fa che non avevo idea di cosa fosse, e quindi ho voluto scoprire nuove cose. Soltanto che adesso non voglio continuare il campo economico. Infatti mercoledì prossimo ho i test di veterinaria, quindi spero di passarli e speriamo in un futuro da dottoressa. Perché mi piacciono gli animali. Allora, soffari. Mettermi lo smalto, cosa che adesso... No, a parte gli scherzi. Vabbè, comunque riesco a capire, cioè, le persone. Ci ritroviamo in situazioni dove non tutte le persone riescono a capire l'altro, quindi mi piace molto scoprire il perché delle cose. appunto ho scelto anche il ramo della veterinaria per scoprire il perché di certe malattie, il perché degli animali, il perché, cioè, voglio dire, cosa le persone ancora non hanno fatto.